Il passaggio dell'orso Il passaggio dell'orso Quindi il bambino e il cucciolo d'orso nati nello stesso momento saranno legati da un filo invisibile che porterà i loro destini a incrociarsi più volte durante il racconto. Il libro nasce da un'esperienza personale che ho avuto qualche anno fa in Abruzzo come volontario di un progetto promosso dal Parco Nazionale. Mi trovai da appassionato di natura ma comunque da cittadino di Milano in questo ambiente sconosciuto e bellissimo quale il Parco Nazionale di Abruzzo insieme ad altri quattro volontari provenienti da altre parti d'Italia. La prima notte in questo luogo noi alloggiavamo in una casone, il casone Antonucci, molto distante dal paese e confinante con una delle più belle foreste del Parco d'Abruzzo. La prima notte ci fu un incontro molto interessante e inaspettato perché dopo mangiato io e gli altri volontari sentimmo un rumore un po' inquietante. Ci affacciamo alla finestra, era notte ma c'era una luna piena che illuminava la parte antistante al casone e lì davanti alla legnaia vedemmo una massa scura impellicciata che stava cercando di sfondare la porta della legnaia. Si trattava di un orso, un orso marsicano che stava cercando di entrare in questa stanza per cibarsi delle riserve alimentari come sacchi di patate o di mais. E quindi noi ci troviamo di fronte a questo orso, un po' impauriti, chiamammo con la radio che avevamo a disposizione i guardaparco che con molta tranquillità ci dissero di fare un po' di baccano perché quella era soltanto un'orsa confidente, un'orsa chiamata yoga che si avvicinava alle case e alle attività umane. Per cui noi ci troviamo in questa situazione abbastanza surreale di fare del rumore con delle pentole e dei mestoli dalla finestra, yoga ci guardò in modo molto scocciato e se ne tornò nel bosco. Il giorno dopo le guardie del parco ci raccontarono la storia di yoga che era un'orsa rimasta orfana quando aveva poco più di un anno, quindi non aveva potuto terminare la sua educazione naturale. La madre era morta, non si sa bene per quale motivo, forse vittima dei bracconieri, non è stata mai ritrovata. Il fatto sta che yoga si era specializzata nel sfruttare un po' l'uomo e le sue attività, per cui spesso si nascondeva nei cespugli vicino all'area picnic della camosciara e andava a rubare le cibarie ai turisti, un po' come l'orso yogi dei cartoni animati. Per questo i guardaparco l'hanno chiamata appunto yoga. Quest'orsa e le sue peripezie hanno ispirato anche il personaggio animale del libro, cioè l'orso caro. Per cui da questa esperienza, dal mio contatto con gli orsi e anche con le persone che lavorano nel Parco Nazionale d'Abruzzo è nata l'ispirazione, da questa esperienza è nata la voglia di scrivere questo libro, Il passaggio dell'orso, edito da Salani. Il passaggio dell'orso, edito da Salani Iscriviti al nostro canale Iscriviti al nostro canale